Oggi martedì 26 maggio abbiamo una lezione particolare. Come faremo? Guardiamo e ascoltiamo prima un video. D'accordo? Sì Mia, sei d'accordo? Guardiamo, sì, guardiamo usando gli occhi, guardiamo e ascoltiamo usando le orecchie un video. Vi condivido un video molto particolare. Siamo? Simone, dov'è Lisa? Qui in cucina non c'è. Non lo so mamma. Lisa? Lisa? Dove sei? Rispondi! Lisa? Lisa? Io vado nel salotto e tu guarda in camera tua. Sì! Mamma, sotto il letto non c'è. Dentro l'armadio c'è il suo segno. Davanti alla tv c'è la sua bambola. E dietro al divano non c'è. Andiamo in bagno. Mamma, lì sei qui, dentro la vasca da bagno. Esce fuori, bellichina. Allora, che è successo in questo video? Andiamo all'inizio, d'accordo? Vediamo cosa succede. Dove sono questi personaggi? Dove si trovano? Sono a scuola? No. No? Dove sono? A casa. A casa! Sono a casa, guardate, lì si vede la casa. Sì? Allora, chi è questo personaggio? Chi è? È la maestra? No. E la nonna? No, perché è giovane. Chi è? La mamma. La mamma. È la mamma di due bambini. Un bambino che si chiama Simone e una bambina che si chiama... Come si chiama la bambina? Sì, si chiama Lisa. La bambina si chiama Lisa. Allora, guardiamo e ascoltiamo. Dov'è Lisa? Qui in cucina non c'è... Cosa dice la mamma? Ripetiamo, sì? Sì, risentiamo cosa dice la mamma. Simone, dove è Lisa? Qui in cucina non c'è... Con la sua mamma. Cosa domanda la mamma a Simone? Che... Che vanno a buscare Lisa? No, dice dove è Lisa? Donde sta? Le pregunte a Simone. Dove è Lisa? E dice in cucina non c'è. Perché dove si trovano i personaggi? Sono a casa, sì? Questa è la casa di Lisa e Simone. E la mamma sta in... In che parte della casa? Vedete? È la cucina. La cucina, giusto. La cucina è la parte della casa dove si prepara da mangiare. La mamma è in cucina e dice a Simone, dove è Lisa? Perché in cucina non c'è. Cosa significa non c'è? Non sta. Non sta. Benissimo. Ricordiamo che c'è un'espressione del clima che noi usiamo con c'è. Come diciamo noi? C'è che cosa? C'è il... Come diciamo? C'è il so? C'è il sole, diciamo noi. Per dire è sta soleado, in italiano diciamo c'è il sole. Quando non, diciamo non c'è. Lisa c'è? Sta Lisa in cucina? No. Lisa non c'è. D'accordo? Allora, vediamo cosa dice. Ascoltiamo le parole, d'accordo? Guardate, questa è la cucina della casa, c'è il forno, c'è un tavolo, ci sono i piatti. Guardate cosa c'è nel muro qui, qui sopra. C'è un o-ro-lo-gio. C'è un o-ro-lo-gio, sì hai un reloj. E ci sono uno, due piatti. Ci sono due piatti sul muro. Allora, questa è la casa, risentiamo e vediamo. Simone, dove è Lisa? In cucina non c'è. Sì? Simone, dice la mamma. Dove è Lisa? In cucina non c'è. Guardiamo che cosa c'è in cucina. Come si chiama questo? Come dico ventana in italiano? Fines? Finestra, finestra, in cucina c'è una finestra, ma Lisa non c'è. Vediamo cosa succede dopo. Non lo so, mamma. Cosa dice Simone alla mamma? Che fa così? Fa questo gesto? Non so se dove sta. Però come lo dice Mia? Perché lui non parla spagnolo. Come dice Simone, Mia? Riascoltiamolo diciamo in italiano. Perché Simone parla in italiano. Sì, no, non c'è. Non lo so, mamma. Non lo so, mamma. Non lo so, mamma. Perfetto. Non lo so, mamma. Non lo so, mamma. Guardate come fa con le spalle, sì? Una spalla, due spalle. Alza le spalle e dice Non lo so, mamma. Si fa un gesto. D'accordo? Vediamo fin qua e continuiamo. Simone, dov'è Lisa? Che in cucina non c'è. Non lo so, mamma. Lisa! Lisa! Dove sei? Cosa dice la mamma? Lisa! Lisa! E che domanda? Ascoltate la domanda. Ascoltate bene la domanda. Dove sei? Donde stai? Dove sei? Dove sei? Donde stas? Dove sei? Donde stas? Guardate la faccia di Simone. Cercate di fare la faccia di Simone. Come fa Simone? Così? E sta pensando. Sì? Con il viso, come dicendo Dove starà? Dove è questa sorellina mia? Donde stas? E sta a fermarita mia vetida? Guardate la faccia, sì? D'accordo? Cominciare la lezione percorso. Cominciare la lezione percorso. Oh, che stanno facendo questi? Questi non è! Che è successo qui? Abbiamo cambiato il video.